Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. La prima domanda è la domanda più complessa e sicuramente più difficile in assoluto. La dico così veloce e secca, chi è Demis Facchetti? Demis Facchinetti è uno che non si arrende mai, le prova tutte, quando vuole qualcosa le ottiene e dunque da quando ho iniziato a scrivere musica, che avevo 15 anni, non ho mai smesso, gli obiettivi che volevo raggiungere, ci sono riuscito a raggiungerli, alcuni importanti, alcuni meno, ma io ci tenevo, ma ne ho ancora da raggiungere e dunque sono ancora qua a presentare la mia musica. Ecco, questo in pochissime parole. Parlando già dell'ultimo lavoro, come nasce questo ultimo lavoro e a cosa hai tratto l'ispirazione? Ma guarda, come ti dicevo un attimo fa, questo brano racconta sostanzialmente una storia d'amore, ma racconta l'ultima possibilità che uno ha per recuperare l'amore e renderlo indelebile nel cuore, ma sostanzialmente quello che volevo comunicare è non solo nell'amore, ma in tutto. Le ultime occasioni sono fondamentali. Quando uno ci dà l'ultima possibilità, dobbiamo sfruttarla al meglio e con positività. E questo, ripeto, non solo nell'amore, in tutti gli ambiti. E con indenebile voglio proprio dire questo, dammi un attimo un respiro, sarà l'ultimo che chiederò, ma proprio perché l'ultimo deve essere quello fondamentale. Io tante volte nella mia vita, quando mi hanno dato l'ultima occasione, l'ho sfruttata al meglio. Tante volte invece tanta gente è ansioso, è agitato perché hanno l'ultima occasione, ma non bisogna di essere agitato. L'ultima occasione è quella più importante, devo dire. L'emozione più bella, quando tu sali sul palco e suoni, suoni, perché in questo periodo bisogna ripartire, quindi sarà un po' dura. Però, dando prima cosa, se manca il palco? Beh, tantissimo. Anche perché io ho iniziato a suonare dal vivo quando ero giovanissimo e non ho mai smesso. Dunque il palco è proprio un mondo che mi manca, anche se in questo periodo ho lavorato a livello discografico, parecchio, però il palco è il palco, il contatto con la gente, le persone che cantano i tuoi brani, che urlano, che battono, cioè tutto questo ambiente manca tantissimo. E la seconda parte era l'emozione che provi, la sensazione che provi quando senti la gente sotto il palco che canta, balla, salta, piange, però esprimono tante emozioni perché loro sono lì a cercare quelle sensazioni e tu sopra che provi? Ma questa è una cosa bellissima, nel senso che tante volte mi dicono, non solo al momento, ma anche dopo mi arrivano i messaggi, mi hai fatto commuovere, è una cosa bellissima perché alla fine io scrivo musica per cercare di comunicare qualcosa alle persone e questo comunicare è qualcosa che magari loro non riescono a esternare perché per svariati motivi e magari con una mia canzone che io ci ho messo veramente poco, solo presentarla a loro e loro gli ho fatto un grandissimo piacere perché ci sono riusciti a liberarci di qualcosa o gli ho ricordato qualcosa perché tante volte il problema di chi ascolta musica è questo che non riesce a sbloccarsi con i sentimenti o con le emozioni e del nuovo lavoro, la copertina, come nasce l'idea con la copertina? Voi siete lì che è tutta una cosa di colori? Allora, la copertina è nata innanzitutto così colorata perché va bene il titolo indelebile ma volevamo, come dicevo prima, un'ultima possibilità fresca, allegra, felice dunque, questo ultimo tentativo di recuperare l'amore deve essere una cosa unica, fighissima e bisogna essere felici di questa possibilità allora abbiamo deciso anche nella copertina di trasportare questo indelebile ma un indelebile bello, fresco, colorato, allegro ti dirò anche che facendo questa copertina con il mio chitarrista Luca Marchetti volevamo fare un lavoro a PC come si fa ultimamente mettiamo le nostre foto, sporchiamo, invece no, abbiamo detto ma quando ci ricapita un divertimento simile allora abbiamo iniziato e abbiamo, abbiamo passato delle ore di puro divertimento far con la copertina infatti faremo anche il video che uscirà a luglio quello ma sempre questo stile perché due volte divertirsi così con questi colori tipo bambini dell'asilo ci sta Il secondo concorrente lui è un cantautore dal nome inconsueto si chiama Demis, pensate non c'ha manco l'onomastico, mischino e anche dal cognome ingombrante perché si chiama Facchinetti ma non è il fratello di Francesco e non si sa se sia un bene o un male un applauso solo al pensiero è autore dei suoi testi in cui descrive quelle che lui chiama le piccole cose dell'amore speriamo per la sua fidanzata che non si tratti di un testo autobiografico Demis Facchinetti In questo caso è la domanda più banale che ti hanno fatto sul papà Sul papà? E sul fatto che ovviamente quando leggono facchetti poi non leggono mai sopra il nome leggono soltanto la scritta grossa facchetti No, infatti mi hanno detto salutami tuo cugino Roby e Francesco No, non è Ma siamo parenti perché siamo di Brescia e Bergamo però solo per questo per il resto non vi posso salutare papà non lo vedo Meno male perché abbiamo tolto il dente perché ormai se avessi un pulsante magico per poter saltare su un palco a tua scelta nello spazio e nel tempo non diciamo recente ma in qualsiasi palco per suonare con un artista o suonare insieme quale concerto ti piacerebbe saltare? Allora, anche io sul palco? Sì Ah, Cesare Cremonini qualsiasi concerto, qualsiasi palco qualsiasi con lui salterei sul palco comunque perché lo seguo da quando è nato con il Luna Pop lo seguo da ancora prima quando andava in giro nei locali che non erano ancora conosciuti e praticamente ho percorso in parallelo io ovviamente rimanendo un po' indietro lui ha fatto grandi salti ma ha fatto un percorso artistico spettacolare dunque lui è assolutamente uno di quegli artisti che stimo e che veramente sarebbe una cosa fantastica riuscire a fare un pezzo assieme e non è l'unico però Nella creazione dei brani nascono prima le canzoni tutte le parole nasce prima la musica come arrangiamento come sensazione di musica oppure nascono insieme? No, normalmente insieme nel senso che io quando mi metto la chitarra al piano accompagno sempre quello che faccio musicalmente con le parole e viene una cosa un tutt'uno diciamo difficilmente mi è capitato di scrivere un testo prima forse qualcosina ma raramente dunque è una cosa che nasce tutto assieme E come mai ti è venuto in mente di fare il rock? Ma no non mi è venuto in mente io nei lavori passati nei singoli passati mi sono spostato un po' sul pop ma ma io sono cioè io il rock per me non io lo faccio lo faccio veramente in modo spontaneo e ce l'ho dentro cioè io la mia anima è rock e io e io devo fare quello e so fare solo quello dunque voglio dire non faccio fatica a farlo lo faccio come mi viene meglio ma non è una scelta è proprio un piacere E parliamo un pochettino di gadget come una rock band inglese gli Aromedian hanno fatto la topper voi come gadget avete scelto qualcosa di particolare te la faccio vedere questa è indelebile questa è l'etichetta la mia etichetta discografica anche perché devi sapere che questo è il single è uscito con io ho aperto un'etichetta discografica dunque è uscita come autoproduzione come QMA Music ma ti dirò di più che i gadget questi adesso ci sono per indelebile ma poi mi lasci l'indirizzo ti mando quelli della QMA perché quelli è una birra questa è una birra che c'è già in vendita ma quella della QMA è una birra che non c'è in vendita è una birra che pochi possono assaggiare dunque la birra del successo te la manderò poi abbiamo detto l'etichetta discografica sei l'editore quando ti viene domanda di fare l'etichetta ma soprattutto come si dice ma chi te l'ha fatto fa? sì è vero questo chi me l'ha fatto fare lo so ma me lo dicono tutti allora io l'etichetta nel 2019 ho iniziato questa avventura ma ho fatto una scelta per un semplice fatto che lavorare con l'etichetta è difficile perché non sai mai cosa ti fanno fare allora ho deciso di mettere a disposizione la mia esperienza le mie conoscenze anche ad artisti emergenti ma soprattutto sono partito con i miei lavori dunque mi sono autoprodotto ho iniziato a fare di testa mia ovviamente il lavoro si è triplicato perché puoi immaginare che il lavoro si è triplicato però ti posso dire che anche le soddisfazioni perché sia personali anche per altri artisti quando arrivi a certi risultati veramente dici cavolo ce l'ho fatta con fatica ma alla fine quello è il bello del lavoro se fosse facile sarebbe una cosa di tutti invece non lo è e io sono contento di fare fatica e condividere la mia esperienza i contatti con altra gente è un po' questa la nostra era una battuta perché effettivamente fare incidere la canzone cioè suonare stare lì suonare a posto finito ma poi il lavoro più grosso è dietro cioè promuovere la parte della psicografia non è solo quella poi stanno ritornando in auge anche vinile sì esatto e tra l'altro io ho una mezza idea che tra l'altro quando è mezza vuol dire che è già compiuta entro fine anno farò un vinile con i miei lavori sono 12 lavori e entro fine anno farò questo vinile con l'uscita di un nuovo singolo prima della fine dell'anno dunque questa è una cosa che anche a me piace molto e sicuramente la farò in edizione limitata ne farò poche perché nel senso non è che però però ci tengo anche solo per appendermela qua nello studio a questo punto partendo che si parte quali saranno le prossime date le prime date che farai perché penso che allora io attualmente ritornando all'etichetta discografica ho organizzato un festival per artisti emergenti e io mi esibirò il 17 luglio a Travagliato in provincia di Brescia in questo festival dove sarò anche patrone ovviamente organizzatore di questo evento e poi a settembre il 5 settembre a un evento unico veramente unico dico 3 Day of Music su una piattaforma galleggiante sul Lago di Zeo ci sarà un evento pazzesco e anche lì sarò in giuria e sarà una bella soddisfazione anche lì e per i concerti invece inizierò a settembre a prepararli sperando che tutto vada come sta andando e le riaperture continuino però per i concerti credo che prima della fine prima dell'inizio del 2022 non ce ne siano se ti dovessi fare una domanda da solo e ti dovessi dare una risposta quale sarebbe? ma me l'hai fregata tu prima ma chi te l'ha fatto fare però vabbè me l'hai fregata ormai me la faccio lo stesso ma come ti dicevo prima io sono uno che ha mille idee e deve per forza metterle in campo tutte non me le posso tenere in testa e dunque in qualche modo devo continuare a fare fare e sono contento così dormo poco ma sono contento lo stesso la musica va vissuta quindi a proposito c'è qualche artista che oltre a Cesare Bonini che abbiamo capito che è un grande che ti che ti emoziona che oh che ascolti ci sono mani in cui hai bisogno e ascolti di quell'artista ma diciamo che a me piace molto una band non tanto conosciuta che è stata però a Sanremo un paio di anni fa e sono i The Dance Circus che fanno rock alternativo chiamiamolo italiano e sono veramente trasmettono veramente tanto e loro mi piacciono poi io ascolto di la verità specialmente in questo periodo ascolto molto musica indie italiana dunque tutti i vari personaggi Calcutta Gazelle che è un mondo un po' a sé però hanno il loro perché dunque non ho nessuno di predefinito che ascolto vado un po' a ricercare a ascoltare un po' di tutto mi piace molto Anna Lisa perché lei c'è da dire quella Anna Lisa mi piace molto però ecco di preciso proprio non è che dico metto su questo artista è difficile è difficile perché ascolto veramente di tutto e mi piace ascoltare di tutto quindi hai festeggiato dieci anni del primo singolo 2020 sì abbiamo festeggiato il brano con cui avevo partecipato Italia Sgottale nel 2010 me ne frego di tutto l'abbiamo riarrangiato risuonato con la band abbiamo fatto questo tra virgolette questo festeggiamento perché comunque è quel brano è quello che mi ha dato in là a farmi conoscere un po' di più alla gente dunque doveva essere festeggiato per forza com'è vivere i talent televisivi vivere i talent secondo me è importante perché sono una delle vetrine attualmente più forti però ovviamente bisogna avere prima della gavetta prima avere del materiale aver fatto esperienza perché sennò ci si ritrova in un ambiente che poi appena usciti non si sa cosa fare io fortunatamente già prima del talent appunto suonavo e scrivevo avevo tanto materiale che mi ha permesso comunque negli anni di continuare a proporre quello che avevo da dire abbiamo notato che però i cosiddetti cantautori trovano difficoltà a entrare in questo perché si cerca spesso volendo dire la bella voce ma non tanto cioè un De Gregori un Venditti probabilmente un Vascolo di questi tempi probabilmente non sarebbero maniati giustissimo è vero si tende un po' a dare spazio alla musica tra virgoletta pop commerciale che sentiamo un po' ovunque quello è vero io ho avuto la fortuna di riuscire a partecipare però credo anche che i cantautori sono loro stessi che cercano di snobbare questi programmi ma secondo me sbagliando perché comunque sono delle vetriche importanti e se secondo me una buona dose di cantautori provasse a fare questo percorso credo che lo spazio lo si trovi è che quando uno si trova a fare dei casting e si trova 10 cantautori anche le stesse persone che scelgono chi deve partecipare dicono cantautori ce ne sono 10 che cosa ce ne facciamo ci sono 100 artisti che fanno pop italiano e invece se si presentassero 100 cantautori anche loro iniziano a dire cavoli però c'è tanta gente che fa il cantautore e secondo me potrebbe essere una cosa a favore però è un po' snobbata da loro questa speriamo che cambino idea ma speriamo poi è vero che io sono un cantautore un po' anomalo nel senso che io sono molto per il commerciale e dunque la mia idea nasce così io quando scrivo i brani nascono e durano tre minuti come se li avessi scritti apposta invece no è proprio una questione che mi vengono così e sono facilitato sotto questo aspetto invece i cantautori scrivono i brani durano 5 minuti e già entrare in radio è una cosa impossibile c'è da dire anche questo però secondo me dovrebbero provarci maggiormente la stessa la stessa cosa che dissero quando i Queen schissero Bohemian Rhapsody dissero non era possibile un brano di 9 minuti 7-8-9 minuti posso andare in radio e fare successo poi in realtà e loro si sono riusciti vabbè alzo le mani vabbè che non posso di niente stiamo parlando dei Queen che poi una curiosità per diventare allora per essere bravi bisogna fattere fuonare e produrre musica ma per entrare nel mito bisogna morire? guarda non lo so non l'ho ancora ben capito ma mi sembra di sì ecco perché comunque eh beh forse Vasco che adesso è già un mito però è dura questa domanda è interessante è interessante anche perché comunque se n'è andato da poco un artista che secondo me lui era un mito in tutto e per tutto che è battiato che comunque ne faceva della sua vita è veramente una cosa spettacolare la voleva comunicare a tutti però non per tutti per esempio lui è un mito dunque voglio dire anche questo è un po' a seconda della persona dunque non so non so non saprei ma sono delle bamboline lì sopra scusa ma sono delle sono piccoli sono piccoli Buddha sono ah piccoli anche qua il Buddha con la campanella non sono buddista ma faccio tanta meditazione faccio tanta meditazione e dunque tanta arriva da quel mondo e devo dire che che mi fa stare bene dunque anzi lo consiglio a tutti chi non lo fa vi porta tanta serenità e tanta forza per raggiungere i vostri obiettivi fai ginnastica respiratoria quando entri al palco fai ginnastica respiratoria no 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 io non faccio ginnastica respiratoria non faccio vocalizzazione non faccio niente quando arrivo sul palco canto come sono capace e basta infatti infatti esatto esatto ma è la fortuna anche di chi scrive musica non sono un interprete che devo andare a fare sentire chissà che roba io devo andare a comunicare quello che ho scritto e se non sono perfetto vabbè non piacerò a tutti ma non importa ogni concerto si ci sono moventi diversi per ogni concerto perché ogni concerto è un mondo a sé assolutamente secondo me è quello il bello io quando vado a vedere i concerti che sembra di ascoltare il cd non mi piace mi annoio mi annoio perché i live devono essere live in tutto e per tutto poi al giorno d'oggi la tecnologia non permette troppo però qualcosina sì e ti è sorpreso che Sanremo vincesse i Maneskin? ma sorpreso un po' perché comunque è un genere che in Italia le chitarre non si sentivano da 15 anni credo così prepotenti in un brano sotto questo aspetto sì però c'è anche da dire che loro veramente secondo me hanno tutto hanno tutto perché comunque hanno presenza hanno carisma hanno cioè hanno veramente tutto e così anche all'Eurovision anche se l'Eurovision in Europa sono più pronti perché in Europa sono più preparati a questo genere cioè veramente io sono rimasto contento e sorpreso in Italia più che altro però poco poco quando abbiamo qualcosa di bello comunque poi alla fine bisogna trovare sempre il pelone luogo per discuterne non lo so perché ripeto i Maneskin hanno secondo me hanno tutto hanno tutto sono giovani hanno personalità hanno carisma sono bravi perché comunque magari non sono tecnicamente perfetti ma quello che devono dire lo sanno trasmettere cosa devono fare di più non so io non lo saprei secondo me hanno veramente tutto e hanno dato dimostrazioni in Europa perché in Italia sai c'è sempre qualche cosa ma in Europa cosa vuoi dire hanno fatto il boom all'Eurovision e ancora adesso sono primi nelle classifiche vuol dire che ci sono che ci sono e valgono è solo che in Italia siamo gelosi noi in Italia siamo gelosi di qualsiasi cosa quando uno fa qualcosa di più sì però sì però allora così così non andiamo da nessuna parte anche perché io credo che c'è spazio per tutti c'è spazio per tutti e e ognuno ha un suo spazio perché il mio spazio non può essere quello uguale di un altro cantautore lui deve avere il suo spazio perché ha un determinato pubblico io ho il mio cioè ognuno ce l'ha il suo spazio non è che perché uno arriva l'altro non può più arrivare dunque sono discorsi un po' così da come si suol dire da bar io ringrazio te innanzitutto per questa bellissima chiacchierata e che dire vi mando un abbraccio Studio 7 in collaborazione con Sport e Piceno Game presenta l'intervista di Pietro a guardare il soffitto come se fosse scritto con parole d'amore che mi fanno resterò qui bene a mani dai ancora una volta guardami in faccia non fare la stronza spogliatemi che facciamo l'amore lo so che vorresti facciarmi per ora ho parlato del mondo del doppiaggio che è un altro pianeta certo bello però una cosa in comune l'avete come a loro quando loro dicono io faccio il doppiatore e il mio lavoro è il doppiaggio tu fai dici in questo caso tu sei adesso produttore però prima ti dice io sono musicista ok e tutti i geni sì bello sì ma poi la domanda ti viene spondendo e la faccio io ma che lavoro fai? il problema il problema della musica in Italia secondo me è quello che o non c'è una via di mezzo in Italia o sei o puoi fare il cantante ma solo perché sei conosciuto o non lo fai perché non sei conosciuto ma effettivamente ci sono anche tante vie di mezzo io posso fare anche il cantante anche se non mi conosce nessuno perché canto riesco a campare facendo feste e purtroppo in questo mondo anch'io dico ma che cosa fai? sono un cantante vabbè però è così poi sì adesso essendo produttore c'ho un vantaggio perché comunque sai il produttore è già diverso già fa più fa più lavoro il produttore infatti quindi quindi no perché è una domanda che ci viene sempre spontanea non la vogliamo mai tirare fuori perché mi sembra ormai diventata più che una leggenda questa cosa però alla fine in realtà non è cambiato niente negli anni no no su questo aspetto no ma io ma già io in famiglia quando ho io ho smesso a vent'anni di lavorare in una fabbrica per fare da vent'anni subito questo lavoro sono uscito di casa vent'anni perché volevo fare questo e i miei genitori non erano d'accordo però ho detto a questo punto mi arrangio così non avete perché sai c'è sempre stai in casa vai a lavorare ora vado via mi arrangio così almeno niente non ha niente da dire nessuno però purtroppo è appoggiato poco questo tipo di lavoro ma anche perché adesso è un po' tutelato visto questo periodo stanno mettendo molte più tutele e spero che vengano concretizzate perché non credo siano state ancora concretizzate però hanno messo tanti decreti per gli artisti per tutelare comunque questo lavoro speriamo che continuino a farlo mi piace perché e come si vede il bello è questo ti dico la verità io fino a un po' di anni fa facevo le interviste facevo le chiacchierate mi annoiavo a farle perché cercavo sempre di stare attento a quello che dicevo invece mi sono reso conto che alla fine devo dire cose come le sento come mi vengono raccontare quello che mi viene da raccontare e dunque è molto più bello è molto più reale è molto più è molto più tutto dunque basta mi sono un po' annoiato di fare le classiche interviste dove sto attento sarà quello probabilmente che ha reso tutto un po' più sciolto un po' più però mi fa piacere questa cosa che perlomeno si noti ecco perché ci tengo a trasmettere quello che sono io veramente come questo brano perché veramente questo brano rispecchia proprio è il mio genere quello che sono e dunque basta non parlo più no io ringraziamo ringraziamo anche la detta stampa a Lucilla sì Lucilla è una bravissima persona molto precisa e molto attenta il figlio di Roby no è diverso io perché avevo prima di prima di prima di chiamarla ho fatto una cosa come pochi fanno mi sono messo lì mi sono messo a sentire i brani e soprattutto l'ultimo e ho ascoltato l'ultimo che mi è piaciuto tanto e quindi ottomani ho chiesto io di poterti ascoltare ma perché ti è piaciuto ci è piaciuto il brano perché è bello è ascoltabile è bello e ti ci passi quel tre minuti tranquilli e ti diverti quello che volevamo proprio quello spessi ratezza tre minuti di spessi ratezza e via perfetto io ti saluto e ti do il conteggio finale come il per me non è importante me ne prego di tutto e mi butto sull'aria a guardare il soffitto come se fosse scritto con parole d'amore che mi fanno resterò qui bene amami dai ancora una volta guardami faccia non fare la stronza spogliatemi che facciamo l'amore lo so che vorresti baciarmi per ore a guardare il soffitto non fare la